Abbiamo sancito la partenza della collaborazione con tutti i comuni. È orgoglioso dell'iniziativa l'assessore al turismo Etien Lucarelli, che da mesi lavora al progetto che mette in rete le vallate del Metauro e del Cesano. Con la firma del protocollo, avvenuta questa mattina nell'ex chiesa del Gonfalone a Fano, parte ufficialmente la promozione e lo sviluppo del sistema turistico del territorio. Dopo i saluti istituzionali e le foto di rito dei 14 sindaci che hanno siglato il documento, Silvano Straccini di Maggioli Cultura ha illustrato le azioni future e il cronoprogramma. A rivestire un ruolo fondamentale sarà una piattaforma digitale con un catalogo di promozione, offerte e vendita, in supporto anche a un sistema di strumenti e servizi, come un'applicazione con mappe e informazioni. Il turista, con un semplice clic, potrà prenotare ristoranti, strutture ricettive e biglietti per eventi e musei. In realtà è un aggregatore di prodotti, un portale, che servirà a far sì che un turista che arriva nella nostra città riuscirà a capire quale esperienze può vivere nel nostro territorio, perché da domani ogni comune potrà inserire lì all'interno l'esperienza che tutti i turisti potranno vivere, qualcosa di concreto. Da domani ci incontreremo con questo gruppo per creare una brand identity di Vallata, per attivare altre politiche turistiche che sono necessarie per il nostro territorio. È un passo importante per essere più appetibile, ha aggiunto l'assessore. Il nome del sito deve essere ancora deciso e verrà concordato con tutti i soggetti. Il progetto coinvolgerà anche il mondo economico, le associazioni di categoria e i privati. Ormai le sfide si vincono insieme, non con gli egoismi dei confini amministrativi. Questa è una nuova strategia che oggi riguarda il marketing turistico, ma che domani riguarderà altre progettualità. Quindi l'elemento vero è questa nuova intuizione, ma l'aver capito che questa nuova strategia del fare squadra, del lavorare insieme, può portare risultati alle nostre comunità, ma soprattutto anche ai tanti operatori che di conseguenza usifreranno questo nuovo strumento, che è questa piattaforma straordinariamente innovativa, nuova e importante. Come Vallata del Cesano, ha poi aggiunto il sindaco di Mondolfo, stiamo lavorando da diverso tempo in sinergia e questa collaborazione anche con l'altra Vallata riuscirà a valorizzare al meglio i nostri territori. Ci sono delle sfide importanti anche per il futuro, anche su tanti temi, non solo del turismo ma anche nelle infrastrutture che poi coincidono fra loro e quindi dobbiamo continuare a collaborare, a lavorare di squadra con tutti i comuni a noi vicini per migliorare la nostra regione. È uno strumento utile e indispensabile, ha commentato invece il primo cittadino di Cartoceto, ma solo se il protocollo non resterà l'ennesimo accordo di partenariato della storia senza alcuna concretezza. Funzionerà per tutti i comuni nel momento in cui ogni territorio individuerà il suo referente in grado di produrre contenuti, foto, materiale, promozionale, un sistema sicuramente integrato tra tutti gli attori, enti locali, associazioni, operatori del settore turismo, ma dobbiamo impegnarci tutti per dare una vera svolta concreta a questo tipo di collaborazione per un sistema di supporto e di sviluppo turistico vero.